La gioia del sesso. Tutte le posizioni, dalla prima all'ultima. E registreremo ogni cosa. Sei un genio. Upload completato. Cazzo! Cazzo! Ah, sì. Che imbarazzo. Ci sono anch'io nel video. Ma nessuno frega niente dell'uomo. È la donna che deve farci i conti per sempre. L'abbiamo notato. Pronto? Sì. Oddio, ti ho dato una ginocchiata sulla vagina! Sex Day. Finiti in rete dall'11 settembre.